La Regione del Veneto è un po' la più lenta in questo momento nell'effettuare le vaccinazioni in tutta Italia. Non ho capito quale sia il problema perché tutto sommato logisticamente mi pare che siamo ben organizzati, però forse è una scelta regionale di tenere da parte le dosi, non lo so, però in questo momento siamo i più lenti. La richiesta del primo cittadino di Belluno non è un capo d'accusa. D'altra parte basta verificare la puntuale statistica pubblicata quotidianamente nel sito del Governo per verificare che l'affermazione di Massaro non è campata per aria. Oggi il Veneto rispetto alle 543.140 dosi consegnate ne ha somministrate il 65,8%. Migliori le performance del Friuli Venezia Giulia, del Piemonte, dell'Emilia Romagna, della Toscana, della Puglia e della Sicilia. Massaro aggiunge. Vorrei che adesso ci fosse una forte accelerazione perché è chiaro che soltanto attraverso il vaccino in qualche modo pian piano usciremo da questa situazione veramente fastidiosa. Abbiamo fatto arrivare la considerazione del sindaco a stretto giro al tavolo del briefing quotidiano che il presidente Zaia intrattiene Marghera. C'è qualche problema nel bellunese che le risulti oppure... No, dovete chiedere al sindaco. L'Orifrato conosce bene la nostra sanità del dipendente. Vergognoso ribatte il sindaco di Belluno che a Zaia manda a dire dal presidente speravo in una risposta e non un riferimento al fatto che io un domani tornerò ad essere un dipendente della regione. La sua considerazione potrebbe essere interpretata come una velata minaccia che mi lascia indifferente perché, chi osa Massaro, sono abituato a tutelare gli interessi dei miei cittadini anche a dispetto dei miei. E in questo momento tutelare gli interessi dei cittadini per il sindaco significa anche ammonirli rispetto al fatto che la curva del contagio sta risalendo e stare a fianco di chi, a causa della crisi causata dalla pandemia, si trova in difficoltà. Fino adesso siamo riusciti in qualche modo a barcaminarci e a tenere in qualche modo, diciamo, aiutare un po' tutte le persone che hanno avuto bisogno, almeno quelle che hanno veramente situazioni abbastanza gravi. Questo grazie anche ai soldi che sono arrivati dal Governo. Bisogna anche dire che effettivamente il Governo i soldi li ha stanziati ed è stato molto positivo. Adesso abbiamo un'ulteriore quota economica che possiamo mettere a disposizione. Quindi abbiamo riaperto il bando e vediamo quante e quali persone eventualmente avranno bisogno così che possiamo aiutarle di nuovo con i buoni spesa.